ma benvenuti oggi siamo qua in un nuovo video che è un video molto molto veloce e anche molto molto corto perché comunque miracolosamente se nessuno mentre faccio questo video si disiscrive sono arrivato ai 100 iscritti per me sono già tanti che 100 persone si sono iscritti al canale perché comunque sono tante per me sono tante perché non credevo neanche arrivarsi a 5 iscritti sul canale e niente volevo proprio ringraziare queste 100 persone che ci sono iscritte sul canale spero di comunque arrivare anche a farne un po di più di iscritti perché comunque è una bella cosa vedere il contatore che un po si sale anche se molte volte ricevo molti più messaggi cioè nei commenti messaggi molto più negativi e offensivi però non li do a retta non li do retta e cerco di farli fare quello che voglio fare senza pensare a questi qua che mi offendono e comunque ringrazio ancora i 100 iscritti che sono iscritti al canale e spero di continuare a farne ancora tanti e niente grazie ancora e ci vediamo al prossimo video bella